venerdì 28 settembre una serata di beneficenza marino fa mercato e band aghettine insieme musica live e poi a pericena il tutto per solidarietà tutto per solidarietà fra i due paesi capolonna e subiano divisi dalle sponde dell'arno due paesi sempre rivali rivalità dagli anni 50 60 nei in cui giocavo a capolonna e subiano quindi c'è voluta la solidarietà la beneficenza l'intraprendenza di marino fa mercato a riunire questi due paesi nella solidarietà infatti il 28 venerdì 28 alle ore 21 ci saranno i locali della centro polivalente di subiano ci sarà questa rappresentazione non soltanto sonora delle band a retine sono sei band si alterneranno nel proscenio gli antenati il quadro d'autore i coragli dieci anni dopo cotton bit garage bende dia bende ma poi ci sarà anche la raffinatezza della cucina pilotata dallo chef di master chef gabriele costantino e con il suo aiuto claudio quindi una serata di beneficenza in favore della comunità di subiano e di capolonna quindi siete pregati di intervenire numerosi perché più siamo e più raccogliamo il tutto al centro polivalente di subiano appunto con gli chef stellati sì sarà un menù all'insegna dei prodotti territoriali quindi chilometro zero sostenibilità e essendo in un territorio come arezzo in questo caso il casentino avremo veramente dei prodotti d'eccellenza grazie a tutti